E' tempo di maschere, coreandoli e stelle filanti. Durante il Carnevale, grandi e piccini si divertono nell'indossare costumi, abiti che permettono loro di immedesimarsi nei personaggi preferiti, tratti dal mondo dei cartoni, dei film o da quello reale. Sono giorni di feste, di risate, accompagnate anche da qualche dolce tipico e in città sono state organizzate diverse iniziative per festeggiare questo periodo. E' così anche il martedì grasso, l'ultimo giorno di Carnevale che precede il mercoledì delle Ceneri, in centro storico, ci sarà un evento che punterà al divertimento, soprattutto per i bambini. Carnevale Party 2023, giorno 21 febbraio alle 17.30, la Prolopoli Caltanissette insieme al Comune offrono un intero pomeriggio di divertimento dedicato ai bambini e alle famiglie. Ci saranno dei gonfiabili, gallerone pirati, sfilate, tanti giochi, tanta musica, tutto dedicato ai bambini e al loro divertimento. Sarà l'ultimo giorno di Carnevale, il martedì grasso, quindi chiuderemo un po' in bellezza questa serie di eventi di Carnevale che già si stanno svolgendo proprio in centro storico.